Prima l'ho immaginato, poi l'ho fatto. Ogni giorno, per anni, dodici anni, milioni, miliardi di momenti, un gesto invisibile e lentissimo. Io, che non ero stato capace di scendere da questa nave, per salvarvi, sono sceso dalla mia vita. Gradino dopo gradino. E ogni gradino era un desiderio. Per ogni passo, un desiderio a cui dicevo addio. Non sono pazzo, fratello. Non siamo pazzi quando troviamo il sistema di salvarci.